GF VIP 7, Martina Nasoni prende le distanze da Dal Moro, il dettaglio che non è passato inosservato. Martina Nasoni è stata una delle concorrenti di questa edizione del GF VIP 7 che forse ha più diviso il pubblico. Da una parte amatissima da una grossa parte dei telespettatori che l'hanno portata ad essere la vincitrice più acclamata dell'edizione non VIP del GF 16, dall'altra però non vista di buon occhio soprattutto perché da quando è entrata nuovamente in casa non ha reso facile la vita a Lioriele. Se da una parte ha spesso avuto modo di confrontarsi in modo acceso con il suo ex fidanzato Daniele Dal Moro. Dall'altra ha anche usato parole non poco carine con la nuova fiamma del suo ex, Oriana Marzoli. Tutto questo, probabilmente, ha reso il percorso della romana non proprio facile. E settimana scorsa, insieme agli altri due ex fidanzati Matteo Diamante e Ivana Mrazova, la Nasoni ha terminato il suo percorso all'interno della casa più spiata d'Italia. Una volta ripresa in mano la sua vita, proprio ieri è intervenuta sui social per ringraziare tutti i fan e tutte le persone che le sono state vicine. Ecco le sue parole. Martina Nasoni ha poi continuato così. Nessun accenno dunque a nessuno degli attuali concorrenti del GF VIP 7, in particolare nessun accenno proprio a Daniele. Ma un dettaglio non è sfuggito ai fans, Martina infatti sembrerebbe aver eliminato definitivamente dai suoi amici sociali il suo ex fidanzato. Tra la cerchia delle persone seguite sul suo profilo Instagram infatti non spunta più lo segui al bel veronese. Sarebbe questo il gesto che confermerebbe dunque una rottura irrecuperabile tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro. Azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel, trage de mine caratterul meu de fier, că baie ploaie vând, nici un curcubeu, da ce că toate astea-s doar in capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai intârziat deja. Arunca spate visele într-o geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva, închide ochii-ți poți imagina că lumea e a ta și-n plus, poți să sari sus, 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 sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut haba. Când e sus, când e sus, când e sus, când e sus pot eu să sar. Acum că nu.